Allora, dopo aver fatto la nostra corda, aver fatto il loop di sopra e il loop di sotto, ora dobbiamo fare il servizio centrale. Allora, intanto, prima di fare il servizio centrale, il loop superiore e il loop inferiore. Così devono essere. Due centimetri e mezzo, circa i due centimetri. Questo di sopra e quello di sotto. Ora sistemiamo di nuovo la corda, gli diamo qualche giro. Ricordiamoci di dare sempre i giri. Vedete? Così non si svita e dobbiamo girarla in questo senso. E anche il servizio lo dovremmo girare in questo senso. Ci ricordiamo che dobbiamo fare tutti i servizio nello stesso senso. Quindi abbiamo fatto il servizio in questo senso, ruotiamo la corda in questo senso. Vi diamo qualche piccolo giro e adesso facciamo un'azione preliminare. Allora, queste le corde ormai, di ultima generazione, forse se abbiamo ancora qualche vecchio fast-flight, non vanno incerate. Sono già incerate. Quindi non dobbiamo fare altro che con un pezzettino di corda o con un pezzettino di filo da punto d'incolco togliere addirittura la cera che c'è in più. Non solo la cera che c'è in più, ma facendo questo lavoro la rendiamo rotonda. Tiriamo, basta una volta e due volte, tre volte e abbiamo risolto il problema. Abbiamo tolto la cera in più e abbiamo reso la corda della rotonda. ora non dobbiamo fare altro che fare il servizio centrale. Allora, abbiamo la nostra vecchia corda, la posizioniamo insieme per vedere dove è il punto d'incolco. Il punto d'incolco è un problema e non va bene perché è fatta per arco olimpico, addirittura è fatta male, non è né per arco olimpico né per arco olimpico. Tenete presente che la parte superiore del servizio per regolamento non deve cadere all'altezza dell'occhio. Quindi quando siete i campionati italiani, perché normalmente è lì che mi fanno queste prove, mi fanno andare in ancoraggio alla massima distanza. Quindi normalmente se fate altre fili mi fanno andare in ancoraggio a 50 metri e la parte superiore del servizio non deve cadere all'altezza dell'occhio. Se fate altre fili mi fanno andare in ancoraggio a 30 metri e non deve andare all'altezza dell'occhio e a 18 metri. Quindi teoricamente quando vado a fare il servizio centrale devo fare attenzione affinché la parte superiore del servizio non vada cadendo all'altezza dell'occhio né a 50 né a 30 né a 18 metri. Lo so, non serve a niente, è una cosa che non serve minimamente a niente, però le regole sono queste e i giudici di gara sono lì per far rispettare le regole. Quindi anche se una regola è astrusa ci dobbiamo adeguare, non c'è alcun dubbio. Allora questa parte la teniamo un po' più in avanti. Io penso sempre che bisogna tenere un pochettino di più, quindi diciamo tre dita, io la tengo sempre a tre dita dal punto di incocco, quindi metto un segnale in questo punto, a tre dita circa dal punto di incocco della forma vecchia. Quindi lo faccio un tantino più grande. Qua non devo fare altro che andare a vedere dove ho i 5 metri e devo avere la patelletta che mi protegge la corda. Quindi normalmente i 5 metri io ce l'ho all'incirco qua, quindi questa lunghezza va più che bene. Bisognava solo aumentare un tantino quella di sopra affinché, non serve a niente, ma affinché non mi vada a cadere all'altezza dell'occhio. Faccio anche un segno qua di dove deve finire il serving. Ecco, perfettamente bene. E ho già fatto un segno per quanto riguarda il punto di incocco, anche se non mi serve perché ho l'inizio e la fine e quello che mi servono, poi andrò a posizionare il punto di incocco opportunamente. Lo dico, lo ridirò più volte, lo dirò anche alla fine, il punto di incocco dell'arco nudo non è raro averlo 4 ottavi e la normalità avere il punto di incocco a un centimetro dello zero che sono 3 ottavi. Quindi la normalità è 3 ottavi. Può essere 2 ottavi come può essere 4 ottavi o addirittura anche 5 ottavi. Non è un grosso problema per quanto riguarda l'arco nudo. Non mi dovete minimamente preoccupare se il punto di incocco è più del normale, come normalmente uno può pensare nell'arco olimpico. Quindi una volta che abbiamo segnato la prima e l'ultima parte del nostro servi, andremo a fare il servi. Anche questo lo dovremo fare nello stesso senso che abbiamo fatto il loop, senza nessun problema. Poi andremo a posizionare il punto di incocco e ci saranno altre cose da dire per quanto riguarda i giri della corda. normalmente si danno 3 giri ogni pollice della corda. Ora andiamo a prendere la macchinetta per fare il servo. Ok, ora facciamo il servo centrale. Abbiamo visto che abbiamo fatto un servo di due loop. Ora non ci resta che fare il servo centrale. Abbiamo fatto due segni. Uno qua e uno qua. Questo è il servo superiore e questo è la fine del servo inferiore. Abbiamo già visto perché lo dobbiamo tenere in questa posizione. Allora intanto per iniziare il servo non è necessario far passare la corda all'interno ma basta unicamente fare un doppio giro. Così. Arrivare fino in fondo, tendere leggermente e poi iniziare a ruotare e iniziare ad avvolgere il servo servo sulla corda. Ecco, vedete, il servo è avvolto sulla corda. Una volta effettuati i primi 4-5 giri, questo non ha più una grossa importanza, lo teniamo dritto per una dozzina di giri in modo tale che la corda sia ben ferma nel suo interno. Una volta effettuati 10-15 giri, lo possiamo tranquillamente togliere, tagliare e poi lo brucieremo. Ecco, ora abbiamo iniziato la prima parte e dobbiamo arrivare fino al secondo segno che è qua. Ci teniamo un centimetro, un centimetro e mezzo prima perché ricordiamoci che dobbiamo fare la chiusura. Così vediamo anche come farlo. Iniziamo il nostro avvolgimento del servo centrale. A me piace ben stretto, quindi la corda la chiudo abbastanza, la vite del servo, la vita della macchinetta. In questo momento sto usando una macchinetta di tipo economico, vanno più che bene, tendono il servo in modo uniforme senza nessun tipo di problemi, basta che seguiate le istruzioni per quanto riguarda come far scorrere il servo all'interno della macchinetta. Se volete una macchinetta di livello superiore, c'è solo la Biter che è di livello superiore e vi agevole leggermente. Però diciamo che anche con queste, con questo tipo di macchinetta per fare il servo va più che bene, ricordiamoci dove è il segno, sì, lì. Ricordiamoci anche che il servo va avvolto come lupo, sempre nello stesso senso, sempre nello stesso senso. Vedete che va avanti da solo, non c'è nessun grosso problema. Ah, una cosa, proviamo con la cocca, deve pinzare e ruotare, cioè non deve pinzare e rimanere fermo. Quindi pinziamo, vedete che ruota. Questa è perfetta a questo punto, ok? Ha pinzato, non scende ma ruota tranquillamente. Se ruota è perfetta, se non ruota dovete usare un servo più piccolo, quindi di diametro più piccolo, questo è uno 0,26 e va benissimo. Oppure se ruota troppo, se non pinza bene, basta inserire all'interno un altro filo, cioè non lo tagliate qua, lo lasciate e girate intorno con il filo all'interno in modo da ispessirlo. Finiamo, vedete com'è semplice, praticamente se utilizzate questo sistema per far ruotare la macchinetta, la macchinetta va avanti da sola senza nessun problema. Siamo quasi arrivati alla fine, non dobbiamo fare altro che effettuare quella manovra con quel metodo per poter chiudere il serving, che è forse la cosa più ostica. Ecco, ci siamo quasi. Per chi inizia a fare le corde, ma una volta che ci avete preso la mano. Ecco, siamo arrivati a circa un centimetro e mezzo dalla fine. Smollo la leva, la smollo leggermente, la corda riprende un tantino posizione, vedete, dobbiamo arrivare fino qua e abbiamo lasciato questo spazio. Ora tiro verso di me 40 centimetri e gli vado sopra. Tengo fermo col dito e ci vado sopra. Ok, questa è la posizione, vedete, non si muove più. Io non devo fare altro che adesso entrare all'interno con la macchinetta in questo senso per poterlo poi svolgere al contrario. Quindi, ci entro dentro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, basta. Ci tiriamo indietro, chiudiamo bene il serviconto e ora vedete che vado sopra il filo che ho tirato per poterlo chiudere. Ci vado sopra, da una parte avvolge e da questa parte si svolge. Qua avvolgo e qua si svolge, in modo tale che vado a coprire il filo che gli ho fatto passare di sotto. Quando avrò finito, tirerò il filo e il loop, il serving, la fine del serving si chiuderà automaticamente con i miei dodici, tredici giri. Ecco, ho finito, ora non mi resta che tirare. Ecco, tiro, tiro, tiro e tolgo i giri che si sono fatti per inerzia. Ecco, vedete, il serving l'ho fatto passare di sotto e lo riapponto e in questo modo l'ho tirato. Adesso non mi resta che tagliarlo, bruciarlo leggermente, in modo che automaticamente si chiude. Anche questo gli diamo una bruciatina ed ecco che la corda è fatta. Un'altra cosa, siccome dobbiamo ancora fare il punto d'incocco e la corda è cambiata, una corda nuova va a variare lo spine dinamico della freccia, c'è poco da fare. E quindi dobbiamo fare, con un minimo di messa a punto, dobbiamo farla. Intanto il punto d'incocco non lo facciamo già definitivo. Utilizziamo questi nastri adesivi che sono quelli delle cocche, che vanno benissimo per fare un punto d'incocco provvisorio. Come facciamo? Beh, togliamo la carta che lo tratteneva e abbiamo visto che il punto d'incocco andava più o meno qua, cominciamo a fare il punto d'incocco inferiore e ci mettiamo il nostro nastro adesivo. in questo modo, che uno è un altro di sopra. Ricordiamoci che il punto d'incocco nell'arco nudo può essere tranquillamente nei tre ottavi, cioè la base è tre ottavi, può essere un ottavo di meno, un ottavo di più. addirittura, senza nessun tipo di problemi, può anche essere cinque ottavi. Quindi non spaventiamoci minimamente del punto d'incocco nell'arco nudo. Certo, più è basso meglio è, però tranquillamente due, tre, quattro, cinque ottavi siamo assolutamente, ve lo assicuro, nella normalità. Anzi, la guida fita dice di partire comunque con tre ottavi delle punte d'incocco inferiore, dallo zero. Ecco, riproviamo un attimo con la coca che ho perso. Prendiamo una freccia Ci entriamo dentro, perfetto, benissimo. La corda l'abbiamo fatta, possiamo smontarla. Ricordiamoci, come abbiamo visto, che il punto, il loop superiore, vedete che non è arrotolato, deve essere morbido. L'abbiamo fatto molto morbido tutti e due. Il punto d'incocco, il loop superiore, deve essere più grande di quello inferiore. Queste sono le giuste misure. Devono essere così. Ok? Devono essere esattamente così. Grazie.